Si firmano collettivamente come comitato promotore no omofobia transfobia gay friendly i ragazzi di Foligno che domani alla presenza dell'assessore Rita Zampolini e del sindaco Anando Mismetti presenteranno la giornata cittadina contro l'omofobia. Un evento annunciato come una necessità ricordando come anche in città si fosse verificato un caso preoccupante di omofobia ai danni dell'attivista Salvatore Savastano, oggetto di minacce e dati vandalici a danno della propria auto. Un episodio gravissimo dopo il quale il comitato chiede a Foligno di non restare in silenzio. Per questo diverse associazioni della città hanno deciso di organizzare per domenica 20 ottobre dalle 16 alle 24 all'auditorium Santa Caterina e in piazza Don Minzoni la giornata gay friendly allo scopo di sensibilizzare l'intera città. Chiediamo al comune di Foligno, scrive il comitato, di impegnarsi per sconfiggere l'omofobia e la transfobia perché si dichiari Foligno città dei diritti anche attraverso la creazione di uno sportello di ascolto nella nostra città perché se Salvatore ha avuto la forza di denunciare l'accaduto molti casi restano nascosti per paura di subire ulteriori discriminazioni. Per questo, conclude la nota stampa, invitiamo tutte le associazioni cittadini e le cittadine di Foligno ad aderire al nostro appello. Nessuno può essere lasciato solo. Il principio d'uguaglianza e non discriminazione, ricorda il comitato, costituisce un elemento fondamentale dell'affermazione dei diritti umani. È garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed è stato rafforzato dal protocollo di Lisbona numero 8, una convenzione che condanna qualunque forma di discriminazione messa in atto dalle autorità pubbliche per qualunque motivo. Purtroppo le azioni omofobe e transfobiche accadute soprattutto in Italia rivelano una violazione sistematica dei diritti fondamentali delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer e intersessuali. Da qui l'appello a partecipare alla giornata di domenica prossima che si svilupperà tra Piazza Don Minzoni e Palazzo Deli. Alle 16 la tavola rotonda con esponenti delle associazioni promotrici del comitato testimonianze dirette, autorità cittadine ed esperti di diritto parleranno nel pomeriggio mentre dalle 18.30 alle 24 seguirà una serie di concerti live presentati da Francesca Formario di Radio 2 insieme ai ragazzi della radio diocesana Radio Genteung.